Una media di circa 100 reati ambientali al giorno in Italia nel 2023, secondo il consueto rapporto sulle eco-mafie di Lega Ambiente, con un incremento dell'oltre 15% rispetto all'anno precedente. Dopo 30 anni esatti di monitoraggio sul territorio, molte cose sono cambiate a livello normativo, ma la piaga resta aperta, soprattutto per il ruolo purtroppo predominante della criminalità organizzata. In Abruzzo abbiamo una situazione di sostanziale stabilità, dal dodicesimo posto del 2022 al tredicesimo nel 2023, ma i reati crescono del 3,4% e siamo oltre i 1.200 in un anno. Al primo posto il ciclo illegale del cemento, seguito dal ciclo dei rifiuti e dei reati contro gli animali. Crescono anche le cosiddette agromafie, con il fenomeno del caporalato, che la fa da padrone. Preoccupa anche il dato sulle province, con Pescara al diciannovesimo posto in Italia con circa 500 reati, seguita da Chieti, L'Aquila e Teramo, decisamente più distanziate. Il nostro rapporto eco-mafia, che quest'anno festeggia i 30 anni, parla chiaro, bisogna stare sempre vigili e attenti, l'Abruzzo non retrocede, non aumenta ma neanche retrocede, anzi c'è un incremento del 3,4% di reati, quindi sempre con le antenne dritte e controllo del territorio. Giuseppe Di Marco, 30 anni di rapporto eco-mafia per quanto riguarda l'Egambiente che oltre a fornire elementi e numeri incontrovertibili, in questi anni anche in accordo con le forze dell'ordine, con le varie procure, ha avanzato anche delle proposte per contrastare questo fenomeno. Sì, oggi è importante ricepire la nuova direttiva sugli eco-reati, noi parliamo della direttiva europea e dall'altro canto rafforzare la nostra normativa nazionale attraverso l'introduzione dei reati ambientali legati alle eco-mafie e abbiamo situazioni delicate anche in Abruzzo da questo punto di vista e per quanto riguarda la tutela degli animali. Ovviamente chiediamo al Governo di accelerare anche sui decreti attuativi che fanno riferimento alle norme ambientali già presenti e tutto questo deve essere accompagnato anche da un'azione più decisa sui territori, per esempio sull'abusivismo deve essere riconsegnata autorità ai prefetti di intervenire in modo da togliere gli ecomostri sui nostri territori perché questo è un elemento anche di credibilità e di sensibilizzazione verso la cittadinanza che può contribuire al monitoraggio del territorio nel momento in cui ha fiducia nelle istituzioni che intervengono e al tempo stesso contribuire al monitoraggio e alla qualità della salute dei nostri territori.